Oggi c'è una ballina facendo l'uomo Ciao Le buche che vi avete dato i vostri amici Amma non ce l'hai Ciao amici miei Che cosa ci prepari oggi? Una torta con le ciliegie Che faccia ton 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 Che ti servono per questa torta le ciliegie? Ciliegie Si e poi? Latte, un guccio di latte, uova, zucchero, lievito Burro Burro Farina E' una ricetta veloce perché dopo andiamo a mangiare l'anguilla da Anita Alla festa da Anita Siamo a snocciolare che snocciole io Va bene Per prima cosa manchiamo Burro Zucchero E burro Vai Grazie 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 Sì Le sbatti l'una contro l'altra Che cambia il suono Ecco Senti che ha cambiato il suono Una si è ammaccata Una delle due Ok Allora rompilo e mettilo dentro Hai bisogno No Brava Raggiungiamo la farina Ci do di aggiungere la buccia di un po' di lime 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 Laime Lime e poi spargila un po come devi prendere la teglia con tutte le due le mani la devi muovere ci rimane solo questa parte divertente che è prendere le ciliegie e metterle dentro come più ti piacciono io direi che possiamo eccola qui adesso dove la mettiamo dentro al forno a quanti gradi tre e mezza 180 gradi 180 gradi è quasi pronta ho sentito il profumo io penso che questa che una torta così bella non l'abbiamo mai fatta brucia sono bruciata e ho dovuto stare attenti attenzione alle torte bollenti alle torte bollenti Grazie.